Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Tassisti di nuovo in piazza. Napoli paralizzata da uno sciopero che penalizza il turismo che in città è ripartito dopo il Covid. 500 gli autisti in piazza del Plebiscito. Circa 500 taxi hanno occupato questa mattina piazza del Plebiscito a Napoli. Tornano a protestare dunque i tassisti in agitazione già da alcune settimane. E per sopperire ai pesanti disagi ANM ha deciso di potenziare il trasporto alibus per l'aeroporto portando le corse da 8 a 15 e impiegando altro personale a bordo. Non è la prima volta che l'azienda deve ricorrere a questo tipo di misure speciali. Nei giorni scorsi infatti era stata occupata anche piazza Garibaldi dove l'assenza di mezzi disponibili aveva messo in difficoltà decine di turisti che avevano dovuto far ricorso ai mezzi pubblici per raggiungere l'aeroporto e il centro. Una delegazione di lavoratori era stata ascoltata dal sindaco Gaetano Manfredi che aveva avuto anche un colloquio telefonico con il vice ministro alle infrastrutture Teresa Bellanova. I sindacati che hanno aderito allo sciopero nazionale proclamato dalla categoria protestano in particolare contro il DDL concorrenza, chiedono lo stralcio dell'articolo 10 che aprirebbe le porte all'arrivo delle multinazionali anche nel loro settore. Noi ormai siamo alla merce di tutti, è un problema che va risolto alla base perché sono stati venduti, si sono venduti a questa grande multinazionale che è Uber, quindi la situazione è palese, devono dirci il perché di questo. Il mio pensiero è che se siamo tutti compatti si potrebbe arrivare ad un compromesso e si vede un pochino cosa fare, la protesta è lecita perché deregolamentare la cosa non fa bene a nessuna categoria. Noi siamo quasi due mesi che abbiamo chiesto un incontro con il presidente del consiglio, cosa che non riusciamo ad avere, mentre invece lui ha accolto il general manager di Uber in 448, gli ha steso anche il tappeto russo a tempo, questo non va. Siamo in collegamento con l'assessore del Comune di Napoli, la sicurezza e la Polizia Municipale degli ESU, salve grazie per essere in collegamento con noi nuovamente, ben trovato assessore. Grazie, buongiorno a lei. Allora, un'escalation di violenza preoccupante in città, cosa si può fare per cercare di controllare maggiormente il territorio con le forze dell'ordine che abbiamo a disposizione con gli agenti della Polizia Municipale che lavorano sul territorio quotidianamente? La criminalità predatoria in questa città, al pari della criminalità organizzata, rappresenta una priorità e una rilevante criticità della nostra città, soprattutto nel momento di grande effervescenza del turismo. Chiaramente abbiamo tantissimi turisti che invadono la città e purtroppo, inevitabilmente c'è anche una elevazione del numero, dell'indice di criminalità predatoria. Stamane il questore ha fatto un'intervista molto incisiva, invita tutti a denunziare, perché la denunzia, al di là delle indagini che verranno poi espletate, serve ad avere una dimensione complessiva sul territorio e individuare quelle che sono le aree più sensibili, dove orientare l'attività interforse delle forze di polizia. In quest'ora è attivo un sistema statistico, anche in termini previsionali, già da anni, che consente di pianificare meglio e più razionalmente i servizi di controllo del territorio. E' chiaro che le aree sono tante, si fa un grande sforzo da parte delle forze di polizia, noi come polizia municipale siamo impegnati soprattutto a garantire adeguate condizioni di sicurezza urbana, nell'ottica sempre più di avvicinare la sicurezza urbana alla sicurezza pubblica. Lo sforzo c'è, noi stiamo, stamattina siamo nel rione Sanità, l'altro ieri eravamo a Forcella, stiamo cercando come polizia municipale, insieme alle altre forze di polizia, di garantire una sostenibile prevenzione e controllo del territorio in alcune aree critiche della città. Certo, assolutamente anche dotando gli agenti della polizia municipale di strumentazione più adeguata e incisiva, come la pistola laser? La pistola da impulsi elettrici ha un'altra finalità, è uno strumento di deterrenza, poi è uno strumento di deterrenza per far fronte a situazioni critiche, non dal punto di vista criminale, ma dal punto di vista dell'atteggiamento aggressivo da parte di soggetti, in ergomeri, dove l'uso dell'arma, l'ordinanza non è opportuna. Noi tentiamo di dare maggiori strumenti per affrontare l'aggressività di tante persone, alcune ubriache, altre con gravi problemi psichici e attiveremo una procedura di sperimentazione nelle aree di piazza Garibaldi, dove purtroppo i nostri vicini sono spesso chiamati ad affrontare situazioni che non sono affrontabili con l'uso dell'arma in dotazione. È uno strumento a tutela dei nostri agenti di polizia municipale ed è uno strumento di deterrenza. Noi affronteremo la fase sperimentale, poi verificheremo la possibilità di utilizzare questi strumenti e di finanziare l'acquisto di questi strumenti. Certo, lei è stato anche questore della nostra città, quindi ha una conoscenza capillare anche del territorio e di tutte le attività criminali e dell'escalation di violenza, perché ovviamente il problema della violenza nelle grandi città e quindi anche a Napoli non è di oggi ma è di sempre. Però sicuramente c'è un episodio, cioè ci sono episodi che crescono anche tra i giovanissimi. Il ferimento in maniera atroce della ragazzina di 12 anni avvenuta questa notte, sul cui incidente è in corso un'indagine dei carabinieri e bisognerà capire poi cosa è accaduto realmente, però diventa preoccupante. Insomma, come si può in qualche modo arginare la violenza giovanile? Come si fa a far capire a questi giovani che ci si può divertire senza violenza? Il ferimento della ragazzina deve essere approfondito dal punto di vista investigativo e può non essere inserito in un contesto, altrimenti facciamo molta confusione. Questo ferimento avrà delle motivazioni che ritengo, presumo, non siano attribuibili alla criminalità né predatoria né di criminalità organizzata, per cui io scinderei le due cose. Che ci sia un problema reale di abbassamento dell'età di devianza giovanile, questo è un tema. Due settimane fa i falchi arrestano tre minorenni dai 14 ai 16 anni che erano strutturati, sono entrati con un'arma all'interno di un supermercato e l'hanno ravinato con un motorino anch'esso ravinato. Per cui il tema di sua devianza giovanile è un tema serio, è un tema attuale, molto attuale. L'età sta sempre pericolosamente e in maniera preoccupante, si sta passando sempre di più. Le dico di certe maggie che non ce ne sono. Sicuramente un razionale controllo del territorio da parte delle forze di polizia con il sossegno della polizia municipale è un obiettivo sostenibile, sicuramente individuando anche le aree soprattutto di fruizione da parte dei turisti, perché noi abbiamo un bene prezioso che è quello del turismo che dobbiamo preservare e dobbiamo garantire il più possibile che i turisti vengono a Napoli e che vivano in una situazione di sostenibile sicurezza. Certo, Assessore, ci dica prima di salutarci, chiaramente anche agosto sarà un mese da tutto esaurito per le strutture alberghiere e fortunatamente il turismo è ripartito come nel pre-Covid e questo ci rende felici. Ma per quanto riguarda l'organizzazione del corpo della polizia municipale, riuscirete a garantire la copertura del territorio con i turni di ferie che inevitabilmente ci sono e gli uomini pochi a disposizione? Avete fatto un piano? Guarda, io uso spesso il termine sostenibilità, lo sforzo deve essere sostenibile alle attuali condizioni. Noi come amministrazione comunale abbiamo dato un segnale forte sullo piano della sicurezza urbana, prevedendo il fabbisogno assunzionale su mille dipendenti di vari profili, 250 ufficiali e agende della polizia municipale, perché questo è un segno concreto che sulla sicurezza urbana e per quanto riguarda le prerogative della polizia municipale, uno sforzo concreto, noi lo stiamo facendo, in consenza di risorse limitate, ma un quarto del fabbisogno assunzionale destinato alla polizia municipale è un segno concreto, perché il nostro obiettivo è migliorare la presenza sul territorio degli ufficiali, delle azioni di polizia giudiziaria, per garantire maggiore efficienza, maggiore operatività sul territorio. Allora, Assessore, noi la ringraziamo, naturalmente le auguriamo buon lavoro, arrivederci. Grazie a lei, grazie. Parco della Marinella in Curia e Degrado, un rilancio atteso da troppi anni ormai. Il ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione la scorsa settimana ha riacceso i riflettori, qualora ve ne fosse bisogno, sullo stato di degrado ed abbandono della zona del Parco della Marinella. L'area alle spalle di Via Marina, che da 25 anni attende di essere ripristinata, oggi resta una discarica a cielo aperto e un ritrovo per disperati. I lavori sono fermi in attesa della bonifica. L'assessore al verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, fa il punto della situazione. Al momento i lavori sono fermi, penso in settimane si firmerà l'accordo quadro con l'azienda che si è giudicata sia il trasferimento, la caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti. Sottolineo che sono rifiuti, diciamo, che da almeno 20 anni sono stati allocati in quell'area. Parallelamente dovrebbero riprendere anche i lavori per quanto riguarda il recupero del manufatto, diciamo, del ristoro, così come la piantumazione e la perimetrazione delle aree. Beh, la tempistica dipende assolutamente dai tempi richiesti per la caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti. Però penso che nella prossima primavera il parco, ecco, dovrebbe essere consegnato ai cittadini dopo circa 30 anni. L'obiettivo è trasformare quest'area di oltre 3.000 metri quadrati da simbolo di abbandono a polmone verde della città. L'assessore Santagada sottolinea il lavoro svolto sin qui e lancia un appello ai cittadini affinché contribuiscano al decoro urbano. È frutto di fenomeni di abusi illegali. Chiaramente il primo passo è proprio il trasferimento e caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti. È stata fatta una gara, è stata giudicata da un'azienda per 1.500.000 euro. subito dopo riprenderanno anche i lavori, come ho detto, per quanto riguarda sia la riperimetrazione dell'intera area così come anche per la ripiantumazione delle aree al verde. Insomma, ci stiamo muovendo ma chiedo anche la sinergia da parte dei cittadini perché vedo che molte aree al verde, ma non solo, sono piene di rifiuti e questi rifiuti non piovono dal cielo ma piovono attraverso alcuni atti indisciplinati dei cittadini. Mare inquinato, la campania con chilometri e chilometri di costa non decolla. Su 31 siti che si trovano lungo le coste della campania sono 14, quelli le cui acque risultano inquinate o fortemente inquinate, mentre i restanti 17 rientrano nei limiti consentiti dalla legge, tra cui il lungo mare Caracciolo di Napoli. È la fotografia che emerge dall'attività di campionamento effettuata, come ogni anno, dai volontari di Goletta Verde, storica campagna di lega ambiente dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. I campioni sono stati raccolti tra il 19 e il 30 giugno. In particolare, sono stati analizzati 5 punti nella provincia di Caserta, 8 nelle province di Napoli, 14 nella provincia di Salerno e 4 nell'isola d'Ischia. Il 51% dei campioni d'acqua è stato prelevato nei punti critici e il 49% in mare. Dei 16 punti prelevati in prossimità di Foci e Canali, 10 risultano fortemente inquinati, 2 inquinati e 4 entro i limiti. Per quanto riguarda invece i campioni prelevati in mare, 2 punti sono risultati inquinati e i restanti 13 entro i limiti di legge. Anche quest'anno si registra una fotografia delle coste campane tra luci e ombre. Ha sottolineato Francesca Ferro, direttore di Lega Ambiente Campania. È una situazione che conferma ancora delle criticità. Alcune le conosciamo, sono ormai croniche nella nostra regione. Sicuramente c'è un live miglioramento su alcuni punti, però noi confermiamo ancora la nostra richiesta di mettere mano alla depurazione in questa regione. E ci auguriamo fortemente che i fondi del PNRR, che sono stati stanziati per la depurazione e per il sistema fognario, vengano utilizzati sapientemente per andare a risolvere ormai delle situazioni croniche e inaccettabili. Qualcosa si fa sicuramente, ma sembra troppo poco. Ripeto, la centralità è la depurazione. Su quella che è assente o è cattiva bisogna intervenire. Non possiamo più rimandare. Lo dobbiamo ai cittadini e anche a una regione che con la risorsa mare vive e fa anche economia. La segoletta verde scatta una fotografia della situazione delle coste, ma è importante perché coinvolge anche i cittadini in questo percorso, perché c'è un numero, c'è la possibilità di segnalare attraverso S.S. Goletta anche delle situazioni critiche e i cittadini sono parte attiva di questo momento di monitoraggio. E quindi questo è fondamentale. Senza l'aiuto dei cittadini noi non potremmo mai chiedere ai decisori politici di intervenire in maniera costante e puntuale su queste questioni. Siamo in collegamento con il sindaco di Capo Adolfo Villani. Salve e grazie per essere collegato con noi. Bentrovato sindaco. Buongiorno e grazie a voi. Allora, sindaco, lei praticamente si è trovato con un problema enorme appena dopo la sua elezione al ballottaggio nelle scorse amministrative. La capua è divisa in due perché il ponte che collega la città è a rischio crollo. Di conseguenza per motivi di sicurezza è stato naturalmente chiuso. Ovviamente è legittima l'ira dei residenti che si trovano a dover percorrere addirittura 16 chilometri per andare dall'altra parte della città con i dovuti naturalmente disagi. Qual è la situazione allo Stato? Allo Stato noi stiamo effettuando dei saggi già da ieri mattina per capire la parte nascosta del ponte e in che condizioni si trova. Perché ciò che è accaduto è questo. Giovedì c'è stata segnalata una crepa sul manto del ponte all'altezza del primo foro. L'ingegnere ha effettuato una prima verifica. È nata l'esigenza di un approfondimento. Il giorno dopo, con una società specializzata e con l'ausilio di un tecnico del settore, di un professore universitario esperto in ponti, si è fatta una verifica delle arcate di tutta la parte esterna ed è emersa una situazione preoccupante perché l'arcata in sinistra idraulica presenta una compromissione seria. Ci sono ferri corrosi al 30-40% del livello. È stata vista anche che nei fori c'era dell'acqua, per cui questo faceva presupporre che anche la parte nascosta, quindi la parte sotto il manto, potesse presentare problemi simili di corrosione dei ferri e di polverizzazione del cemento. Per la verità, da queste prime indagini, la situazione sembra un po' più confortevole, nel senso che i due giunti, quelli sui due fori, si presentano in condizioni buone. Ora si sta ispezionando con delle telecamere, sono stati fatti dei fori, ovviamente in diversi punti del manto e si sta ispezionando un po' la parte più profonda. Al termine di queste indagini, ovviamente noi faremo una verifica di sicurezza, prima della verifica di sicurezza anche una prova di carico e saranno questi esami che ci diranno come andare a rivedere eventualmente all'ordinanza di chiusura, che le ricordo è un'ordinanza di chiusura temporanea. La situazione è grave perché anche l'altro ponte... Infatti spieghiamo, Sindaco, mi perdoni... Sindaco, mi perdoni un attimo, per essere chiari con i nostri telespettatori, che ci seguono da casa, in realtà questo è il ponte romano, è il ponte antico che è stato chiuso, ma esiste... Il ponte cosiddetto romano, ma cosiddetto romano, dopo guerra, perché il 9 settembre del 43 furono abbattuti entrambi i ponti della città. Però esiste un altro ponte, chiuso dal 2018? Sì, esatto. Quindi praticamente entrambi i ponti, quindi la situazione diventa veramente assurda e paradossale, perché dal 2018 al 2022, dal 2018 al 2022, perché non si è provveduto comunque a mettere in sicurezza l'altro ponte, visto che chiaramente, insomma, il problema si poteva presentare all'altro ponte? Perché ci sono stati degli errori che vengono dal 2008, questa è una storia aperta dal 2008, nel 2018 è intervenuta la magistratura per chiedere il ponte e la magistratura è intervenuta perché di fronte ad evidenti problemi il sindaco di allora fece un'ordinanza per interdire il ponte al traffico veicolare, ma non pedonale. E fu questo a far scattare la verifica della magistratura e il successivo sequestro. Ecco perché io questa volta ho dovuto chiudere anche al traffico pedonale. Quindi diventa veramente, diciamo, pericoloso e difficile per i cittadini raggiungere l'altra parte della città. Esiste anche Villa Fiorita, insomma, un presidio ospedaliero che è dall'altra parte. Sì, però delle risposte le abbiamo date. Da ieri staziona un'ambulanza del 118 proprio nel piazzale di Villa Fiorita che ha dato la sua disponibilità a supportare logisticamente la presenza di un'ambulanza in zona. Ieri ho incontrato anche l'amministratore unico di Air Campania, ho fatto un'istanza per attivare una circolare da porti e colleghi la zona di Porta Roma, quindi la zona nord con la zona sud della città. Domani alle 14.30 vedo l'assessore al ramo della regione e verifichiamo se in pochi giorni riusciamo ad avere anche una circolare. Mi sto muovendo anche nei confronti delle ferrovie dello Stato perché sulla linea Cassino c'è un ponte di ferro che attraversa il Volturno e che potrebbe essere utilizzato proprio dal quartiere di Porta Roma per un collegamento rapido con la stazione ferroviaria di Capua che si trova nella parte sud della città. Posto il problema stamattina al capo di gabinetto del prefetto, penso che nei prossimi giorni ci saranno delle riunioni e verificheremo anche quest'altra possibilità. Però ovviamente in questo momento è fondamentale l'esito delle analisi perché da queste dipendono i tempi della chiusura totale del ponte. Tenga conto... Pronto? Sì, sì, la sento, la sento. Sono ancora in linea. Tenga conto che io ho chiesto anche l'intervento del genio militare, l'ho chiesto già nel vertice che c'è stato in prefettura venerdì sera. Già nella giornata di sabato abbiamo avuto la visita degli ingegneri del genio militare, abbiamo individuato dei punti che possono essere adatti alla costruzione di ponti provvisori. Bisognerebbe il sindaco... Noi, nell'eventualità la situazione dovesse essere tale per cui diventasse impossibile aprire il ponte, a quel punto ovviamente noi stiamo già col genio militare studiando un'alternativa. Certo, insomma, il sindaco... Un attraversamento sia pure provvisorio. Certo, è assolutamente necessario trovare un'alternativa perché oltre al danno per le famiglie, nella nostra redazione sono arrivate mail e telefonate di persone che ci raccontano che non possono raggiungere il loro medico di famiglia perché è dall'altro lato del ponte e non possono percorrere i 16 chilometri, quindi diventa un problema. Ma è anche un problema enorme per le attività economiche, in un momento così complesso per l'economia e in questo momento, insomma, cominciava a rialzare la testa l'attività commerciale grazie al turismo che sicuramente anche a capo affluisce in questi giorni? Io direi soprattutto per le attività economiche, perché dal punto di vista medico, con l'ambulanza del 118, il supporto della clinica e anche con i contatti che abbiamo avuto con il distretto che ha anche attivato i medici di base, insomma, io credo che in questo momento il problema più serio sia quello proprio delle attività economiche, ovviamente. Allora, Sindaco... Anche da questo punto di vista il punto è capire quali saranno i tempi di apertura del ponte, perché se questi dovessero essere brevi, ragionevoli, allora noi ci troveremmo di fronte ad una situazione. Se la situazione dovesse diventare più seria, allora è chiaro, io nutereò anche la possibilità di chiedere lo stato di emergenza. È chiaro, insomma, anche perché il ponte deve essere messo in sicurezza perché... Quello ha che c'è la possibilità anche di dare delle risposte sul piano economico. Certo, che il ponte debba essere messo in sicurezza non è dubbio, perché chiaramente la sicurezza dei cittadini è priorità assoluta. Però facciamo in modo che la burocrazia non allunghi i tempi per risolvere un problema. Ponte in sicurezza nel più breve tempo possibile. Questo deve essere l'obiettivo. Da lunedì sono in corso i saggi, quindi da ieri mattina. Tenga conto che il ponte è stato chiuso sabato, poi c'è stata la domenica. mi sente? Sì, sì, la sento, la sento. La sento, la sento. Ho visto che le immagini si sono fermate. No, no, la sento. Dicevo, noi da qui stiamo effettuando, quindi stiamo correndo, stiamo correndo. E allora... Nel giro di qualche giorno avremo il quadro della situazione e daremo il mandato per avere una situazione di sicurezza, una certificazione di sicurezza del ponte. E allora, Sindaco, noi la ringraziamo... E a quel punto noi avremo un quadro più chiaro. Certo, noi la ringraziamo per il suo intervento. Naturalmente torneremo a collegarci con lei affinché lei ci dia delle notizie in merito all'evolversi della situazione. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi, buon lavoro. Memoria alla Michele Siani a Vietri sul mare, emozione per la quinta edizione nel ricordo del medico dei bambini, scomparso prematuramente nel 2017. Quinto Memorial Michele Siani a Vietri sul mare, evento dedicato nel giorno del compleanno del medico dei bambini, scomparso prematuramente nell'agosto del 2017 al ricordo. Nel corso della serata celebrate anche la terza edizione del premio Prendersi cura con il sorriso, assegnato al pediatra gastroenterologo Basilio Malamisura e il quarto premio speciale Giovanni Battiloro, assegnato al giornalista Carlo Verna, il papà di Giovanni Roberto Battiloro. Sono quattro anni che Vietri e la famiglia Siani mi accompagnano in questo lungo viaggio che mi ha portato a combattere per quattro anni per vedere questo processo partire. Domani parte il processo nella prima parte più delicata, quella del primo grado di giudizio. Noi siamo felicissimi, è un traguardo che abbiamo raggiunto anche noi come famiglia Battiloro perché abbiamo partecipato a tutta la prima fase con una perizia privata nostra che ha evidenziato gli ammaloramenti del Ponte Morandi. Siamo riusciti ad ascoltare le improverbie di tutte le persone che dicevano che era solo una suggestione. Diciamo che ce l'abbiamo fatta. Brigida Siani, vicepresidente dell'associazione intitolata al padre, spiega con il quarto premio speciale Giovanni Battiloro che non solo per noi è una delle 43 vittime del Ponte Morandi ma è diventato, come il suo papà, la sua mamma e sua sorella, parte della nostra famiglia. La consegna dei premi è stata preceduta da una tavola rotonda sul tema gestione del post-pandemia. Ci siamo? A cui ha preso parte anche Franco Bonaguro, virologo e primario emerito dell'Istituto Nazionale dei Tumori, Fondazione Pascale. Beh, sì, c'è di fatti un aumento dei casi di Covid, diciamo in maniera corretta, di infezione da SARS-CoV-2. Questo si è registrato un po' dappertutto. Si parla in questi giorni di un'ulteriore variante indiana però in effetti per quello che abbiamo, insomma, l'esperienza che ci siamo fatti negli ultimi mesi è che le varianti che camminano più velocemente sono meno patogeniche quindi in generale non ci aspettiamo dei grossi picchi di patologie severe però ovviamente se i numeri aumentano molto quindi un certo numero di persone suscettibili quindi che avrebbero avuto problemi anche con il morbillo, con l'influenza cioè ognuna di queste infezioni respiratorie poi di fatto ha una certa percentuale di casi con una maggiore gravità. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi. Un piacevole pomeriggio, ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS